Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il colloquio presso la caserma con la famiglia Cecchettin si è concluso senza fornire alcuna nuova informazione. Emergono notizie secondo le quali il padre di Giulia ha consegnato il computer della figlia alle autorità, implorando un intervento risolutivo. La zia Elisa lancia un accorato appello a Filippo, chiedendogli di cercare aiuto. Nel frattempo, l'Università di Padova ha rimosso il nome di Giulia dalla lista dei laureati. Attualmente, l'indizio più significativo e allo stesso tempo drammatico potrebbe derivare dal campione di sangue prelevato dalla zona industriale di Fosso. Nella stessa area sono state individuate nove macchie sull'asfalto, corrispondenti al punto in cui il cellulare di Filippo ha registrato l'ultima connessione con la cella telefonica. Si sta ora attendendo con ansia l'esito dell'analisi del DNA per ottenere ulteriori informazioni su questo misterioso caso.